Kat, è per te. Veramente è per entrambi. Come me la spiegate questa? È una lettera dell'Agenzia delle Entrate. Devo fornire chiarimenti su un conto corrente bancario. E io che c'entro con tutto questo? L'indirizzo che c'è sulla busta è il vostro. E io non ho un conto in questa banca. Per caso hai rubato la nostra corrispondenza, Patricia? Quello che c'è su questa busta è il mio nome. Patty, che succede? Ha rubato la nostra corrispondenza. Voi avete usato i miei documenti per aprire quel conto. Patty, deve esserci stato un malinteso. Tu sei mia amica da anni e ti adoro. Ma i malintesi in questa casa di solito finiscono alla pulizia. Ve lo dico. Quanto prima andrò all'Agenzia delle Entrate per far ripulire il mio nome. Non sono il burattino di nessuno.